ciao ciao a tutti oggi vi presento un completo sia per la femmina che per il maschio nel piccolino allora andiamo con questa azienda francese dove abbiamo la versione di questo golfino in lana molto morbida con questi motivi jacquard nei colori del tortora e rosa e ve li voglio proporre con il suo pantalone che parte dai tre mesi fino ai due anni tutto in velluto micro velluto elasticizzato quindi anche molto molto leggero in in questo colore e poi lo potete possiamo trovare anche in altre tonalità assieme vi abbino una camicetta nel color burro con il profilo così tutto di pizzo un pizzo che comunque non pizzica ai bambini con la ricciatura vedete così di elastico che possiamo metterlo nel suo golfino oppure l'altra versione che a me piace molto sapete che sono innamorata oltre che delle righe anche del fiore e vedete un po' questo fiorellino questo micro fiorellino che richiama poi il motivo e lo possiamo mettere sotto quindi o con il golfino jacquard o con un confine eventuale tinta umita abbiniamo anche i nostri consueti calzini tutti i colori in questo caso ve l'ho scelto nel colore rosa cipria da mettere sotto tutto